Buongiorno e buona domenica a tutti i schitani e a tutte le persone che seguono la mia diretta su Facebook. Non vi voglio trattenere molto perché oggi è iniziato il weekend, ognuno di voi ha diritto di potersi fare qualche bel bagno, però vi vorrei mandare in questo weekend con un po' più di ottimismo e una visione per il futuro che sia quella che possa dare a tutti quanti che vivono sulla nostra isola di speranza e di serenità. Arriviamo al dunque, il primo punto che vorrei affrontare era la situazione ieri di questo incontro con il sottosegretario che è venuto sull'isola e ha parlato con i sindaci, ha parlato con vari imprenditori e la conclusione del sottosegretario era quella che non si può aspettare che in breve tempo si possa ricostruire la zona terremotata, che il tutto è piuttosto complessa, vabbè un po' tutto quello che si ha detto quando parlavano di Amatrice, di Norcia e tutto quanto. Allora io vi dico questo, il movimento dai una svolta alla nostra isola, è nata proprio per contrastare questo andamento politico che è devastante per tutto quello che riguarda il territorio ischitano, perché tutte le politici che arrivano dalla terraferma non hanno assolutamente a cure la nostra problematica. abbiamo purtroppo dei sindaci che per il mio punto di vista non hanno quel carisma che serve per poter avere una svolta decisiva sulla nostra programmazione del futuro di Ischia. Sapete benissimo, Ischia sta ormai da qualche anno passando un momento molto particolare, il turismo ha perso una gran fetta della sua importanza e ha un turismo di qualità media-bassa. Noi deviamo invece invertire il tutto per tornare al discorso di un turismo di qualità. Per quello che riguarda il terremoto, io mi sono anche documentato, perché poi alla fine non è che siamo solo qui a parlare, a chiacchierare e a far vedere che uno si vuole mettere in bella mostra e dire delle belle frasi come hanno fatto molti. Per il discorso del terremoto ci sono oggi dei decreti straordinari che aggirono tutta la situazione della legislatura burocratica e complessa italiana per situazioni di emergenza come quelle di un terremoto, ragion per cui noi dobbiamo solamente ottenere il permesso della ricostruzione, cosa che non è poi tanto difficile e dopo di questo dobbiamo metterci solo all'opera a ricostruire questa zona del terremoto. Io ieri mi sono girato alla zona del terremoto e ho anche visto un po' in che stato vive questa zona del terremoto. In due anni è stato fatto poco o niente, si è stato solamente scomperato le strade, sono stati messi in sicurezza i palazzi, però l'ha finito tutto. Con una buona programmazione e un lavoro di squadra, che vuol dire tutta l'isola di Ischia, noi possiamo ricostruire questa zona in un arco di massimo 18 mesi. Poi dopo noi possiamo vedere che cosa fare, una zona lo potremo sviluppare per creare anche un grande campo da golf, diciamo creare da questa zona, visto che la dobbiamo ricostruire quasi da zero, con delle strutture residenziali moderni, campi da golf, campi e zone da gioco per i più giovani e anche creare un centro di cura di un sanatorio per le persone anziani, per la zona di riabilitazione e quant'altro già che ci troviamo vicino alla zona dell'ospedale Rizzoli. Comunque è un progetto che può essere iniziato e può essere sviluppato in maniera molto positiva per il futuro del turismo. arrivo al secondo punto, che poi non sono chiacchiere, vi torno a ripetere, si sta lavorando seriamente, Luigi Polito, il proprietario dell'imperatore Travel, si sta già adoperando a vedere e a verificare di poter realizzare un progetto di un piccolo aeroporto, piccolo aeroporto ovviamente dove possono atterare aerei di 30, 40, 50 posti, che possiamo iniziare da subito questo lavoro, avremo anche già individuato dove poterlo costruire e potremo a questo punto avere i voli diretti da Milano, Torino, Genua, Roma e da altri luoghi e portare direttamente la clientela a Ischia senza dover fare tutta la trafila, capodichino, draghetti e via di seguito, ovviamente puntando su una clientela di qualità. Comunque una cosa realizzabile benissimo perché oggi ci sono anche là nella tecnologia moderna campi di atterraggio molto molto brevi, a tratti di 400-500 metri, ragion per cui non avremo assolutamente problemi di realizzare un aeroporto del genere. Ripristinare ovviamente l'elicottero che esisteva già nei anni 60, 70, 80, l'elicottero che faceva anche Sorrento e Capri e ripristinare questo volo che può avvenire da Capodichino in modo che chi vuole avere la possibilità di avere un trasferimento veloce e un trasferimento ovviamente di un certo livello, sempre per anche un turismo di qualità, è da ripristinare anche il discorso dell'eliporto. Un altro problema che stiamo affrontando seriamente, abbiamo già preso contatti con delle aziende importantissime, per il riciclaggio della spazzatura. Il riciclaggio della spazzatura partendo dall'umido, la differenziata plastica, vetro e quant'altro. Noi riusciremo totalmente a evitare di dover portare i rifiuti solidi urbani a Napoli, che sono costi altissimi, per farvi capire che il comune di Forio avrebbe pensato da settembre, visto le emergenze, di fare un trasferimento della spazzatura di Ischia, pensate dove? In Puglia! Sapete quanto costerebbe portare la spazzatura in Puglia? Ci sarebbe un aumento del 30-40% della spesa dell'alatezza urbana. Questa era l'idea del comune di Forio, portare la spazzatura in Puglia, ma ci rendiamo conto, ma stiamo dando i numeri. Io ieri ho avuto già occasione di parlare con una prima azienda a livelli mondiali che costruiscono e realizzano impianti del riciclaggio dell'umido e quant'altro, con spazi ridottissimi che possono creare non costi, ma ricchezza, perché da questi composti si crea energia, acqua, composto per la coltivazione, avremo un'infinità di benefici da questi tipi di macchinari, macchinari per il riciclaggio della plastica, dei vetri, dei cartoni e quant'altro. Noi potremo gestire, abbiamo anche già fatto dei calcoli e lunedì nella mia rubrica se ne parlerà, solamente nello spazio che abbiamo a disposizione all'Arenella è più che sufficiente per creare tutto questo impianto per il riciclaggio al 100% di tutti i rifiuti solidi urbani. Se questo progetto, l'isola di Ischia, i comuni di Ischia, i sindaci di Ischia non hanno le capacità di risolverli, il movimento, dai una svolta alla nostra isola, è disposto di prendersi l'incarico, di prendersi tutta la problematica del discorso dei rifiuti solidi urbani e promette già oggi che entro massimo due anni saranno minimo dimezzati i costi della spazzatura per l'utenza, per il commercio e per gli alberghi. Ragion per cui parliamo di risparmi enormi che possiamo utilizzare questi soldi, o ogni azienda può utilizzare questi soldi per investirli nella propria azienda. Debiamo trovare una soluzione per sviluppare l'ospedale, Villa Mercede, il centro mentale e un centro per le persone di handicap. Perché abbiamo la sensibilità di aiutare e di dare dignità anche alle persone meno fortunate. C'è quest'isola deve voltare una volta per sempre pagina, deve prendere in mano l'imprenditoria valida di Ischia, che c'è, ci sono, perché non ci sono solamente imprenditori che svendono l'isola di Ischia, ma ci sono anche imprenditori capaci di realizzare progetti ambiziosi. E questo progetto, che io ho formulato in un lasso di tempo, dai tre ai massimi cinque anni, porteremo l'isola di Ischia all'isola più ambita del mondo, che avrà un aeroporto, avrà un eliporto, avrà la risoluzione totale per quello che riguarda i rifiuti solidi urbani, avrà risolto, ma questo in tempi molto più brevi, il problema dei terremotati della zona del terremoto e senza problemi di tutte quelle belle chiacchiere che sono stati fatti ieri da un senatore, dai sindaci, dai assessori, dai consiglieri e quant'altro. Vi dico che questi problemi si risolvono facilmente, perché il politichese è ormai tramontato. Oggi, se vogliamo progredire su quest'isola, la debiamo fare con le nostre forze, con i nostri giovani, con i nostri imprenditori, con le persone di buona volontà, con persone di capacità, gente che esiste sull'isola di Ischia, ci sono anche tanti ischitani che vorrebbero tornare sulla nostra isola per poter mettere a disposizione le loro capacità al futuro e al bene dell'isola di Ischia. Abbiamo dei progetti non di sogno, non di parole, ma questa volta di fatti, perché ho a fianco delle persone validissime e noi andremo avanti perché noi faremo di tutto che si risolve il problema del terremoto, del campo da golf, andremo a creare un aeroporto, andremo a creare il servizio dell'eliporto, andremo a risistemare l'isola di Ischia, inizieremo a ridare dignità rispetto a tutti gli isolani, andremo a realizzare delle infrastrutture medicali e sfrutteremo tutto quello che oggi offre il territorio isolano, e parlo di agricoltura, artigianato, studi, università, campus, sanità, riabilitazione, tutto quello che oggi è fattibile per creare lavoro. Abbiamo un bellissimo progetto per poter dare e creare un mercato a chilometro zero dove il turista potrà acquistare la frutta raccolta a chilometro zero dai isolani. Il produttore venderà direttamente senza il passamano e senza che lui avrà quattro soldi perché poi dopo c'è il grande business e la grande distribuzione e via di seguito. Un mercato dove si potrà acquistare la frutta isolana, venduto direttamente dall'isolano, potrà vedere tutti i artigiani che fanno la loro lavorazione in questa struttura che andremo a realizzare, dove possono comprare tutto quello che di artistico e di bravura è realizzato dalle mani dei nostri bravi isolani. Andremo a creare la cultura, andremo a creare un fatto zero ambientale. La gente deve venire a Ischia per ispirare aria buona, per potersi curare, per usare le nostre acque, per poter fare i bagni in un mare stupendo. Un turismo che può essere tranquillamente tra i 10 e i 12 mesi all'anno. Allora non più precarietà, non più lavoro di 3-4 mesi, non più una vita di sofferenza che le persone non sanno come poter sopravvivere, ma lavorare tutti, dare lavori a tutto, lavoro, lavoro, lavoro a tutto e realizzare delle infrastrutture che ridanno un lancio turistico, economico all'isola di Ischia che non è mai esistito. Avremo un'isola talmente ambita, talmente ben organizzata che avremo la possibilità di lavorare 12 mesi all'anno con una clientela di qualità che farà rilanciare il commercio, che potranno riprendere tutti i commercianti a respirare, ad attirare investitori, attirare le CRIF, attirare tutto quello che oggi serve per fare un turismo di grande qualità. Allora, queste non sono parole, non sono promesse, non sono chiacchiere, non sono le solite fantasia di un politico o qualcuno che vuole lanciarsi nella politica. Allora il movimento dai una svolta alla nostra isola non è un movimento politico, il sottoscritto che ha realizzato questo movimento non ha minimamente interesse di occupare una poltrona, di avere favoritismi, di avere agevolazioni o di interessi al di fuori di quelli per dare la possibilità alla cittadinanza isolana di poter guardare verso il futuro con una certa sicurezza, con la speranza concreta di avere un futuro per loro e per i loro figli e che un domani Ischia potrà sempre più dare risultati eccellenti per chi ci lavora e per chi ci vive. È tutto realizzabile, non mi venga nessun sindaco, non mi venga nessun politico a livelli provinciali, regionali, nazionali a dire questo non si può fare, quello non si può fare, quello non si può realizzare e qui la pratica non va e questo non è fattibile, no, tutto è fattibile. Se noi vogliamo, quest'isola è nostra, possiamo fare tutto, ovviamente tutto in regola, tutto in base alla legge, tutto in base in un sistema che sia un sistema quello che rispecchia le normative vincenti, va bene? Dobbiamo solo metterci a lavorare, dobbiamo dimenticare i senatori, i assessori, i debutati, i ministri, sottoministri, sottosegretari, i presidenti regionali e questo e quell'altro, dobbiamo essere capaci di autogestire quest'isola e farlo diventare la perla del Mediterraneo. Vuol dire che i sindaci saranno a nostro servizio a svolgere e a realizzare quello che ha bisogno, l'isola di Ischia. Primo punto, caro sindaco Castagna, fatti dare l'autorizzazione per la ricostruzione di casa Micciola e se non lo sei capace a farlo, chiamati qualcuno che lo sappia fare. Se non hai voglia di chiamare nessuno, allora lascia la tua poltrona, perché questo si può fare. Poi per i soldi, i soldi si trovano. Abbiamo la tasse di soggiorno, abbiamo la possibilità di autotassarci, abbiamo la possibilità di risparmiare sprechi inutili come sei comuni, sei sindaci, sei vice sindaci, un'infinità di consiglieri, un'infinità di amministratori, una gestione di spazzatura assurda e costosissima e questo è un inizio di una fila infinita. Possiamo risparmiare una marea di soldi e possiamo far rientrare i soldi per la nostra isola, per uno sviluppo. Ragion per cui io mi auguro che abete la fiducia e la speranza che questo si possa realizzare. Dateci la fiducia e vedrete che tutto si potrà realizzare. Io vi ringrazio, ripeto l'augurio di un felice fine settimana, noi continueremo a lavorare, a progettare e a poter realizzare tutto quello che oggi io vi ho detto. Buona fortuna e auguri a tutti. Arrivederci.